Il fumo della vaporiera. Verso la metà dell'Ottocento, diverse località europee, compresi alcuni centri italiani, vengono collegate da un nuovo mezzo di locomozione destinato a incidere in maniera determinante sui vari generi di viaggio, ad abbattere costi e tempi di percorrenza e ad annullare i tradizionali inconvenienti e non poche scomodità dei viaggi in carrozza. Complici espressioni letterarie e figurative ottocentesche, il treno incarna l'idea della modernità e del progresso, della corsa liberatoria e dell'istinto suicida, dell'affratellamento e della foga assassina. Così scrive Victor Hugo descrivendo il modo in cui veniva accolta la comparsa del treno. Di quella caldaia avrebbero fatto un ventre squamoso, un guscio smisurato, del fumaiolo un corno fumante o un collo lungo con una bocca piena di braci ardenti. E avrebbero nascosto le ruote sotto immense pinne o ali spioventi. Anche i vagoni avrebbero assunto cento fantastiche forme e di sera si sarebbe visto passare nei pressi delle città ora un drago eruttante fuoco, ora un elefante con la proboscide in alto, trafelato e disperatamente intento a barrire. Per il viaggiatore straniero che percorre l'Italia Unita, il treno costituisce una notevole comodità, pur con qualche residuo a nostalgia. Da un lato, infatti, la ferrovia ricalca, per tratte sempre più lunghe, l'itinerario postale rimasto immutato nel corso degli ultimi due secoli. Dall'altro inaugura nuovi tronchi che percorrono anche trasversalmente la penisola, consentendo di raggiungere località da sempre escluse del tradizionale viaggio in Italia. Fra i tanti citiamo l'esempio della strada ferrata da Bologna a Firenze per Pistoia, della linea Empolisiena che consente l'esplorazione dei centri della Val d'Elsa, dell'Arezzo Fossato di Vico che apre a viaggiatore i centri storici dell'Alta Valle del Tevere e dell'Eugubino, dell'Asciano Grosseto con l'attraversamento del Cretesenesi e delle colline metallifere care agli studiosi degli Etruschi. Il singolo scompartimento ferroviario ripropone sia l'isolamento sia la promiscuità della carrozza, di cui peraltro mantiene il nome. La solitudine e l'incontro fortuito, la malinconia e l'alea dell'avventura, ma non la fatica e le lunghe attese alle quali il veicolo a cavalli sottoponeva i passeggeri. Nella percorrenza di più accentuate distanze, il treno diventa il mobile surrogato dell'esistenza di ogni giorno. Basti pensare alla quantità di bagagli che il nuovo mezzo consente di portarsi appresso e come essi permettano di riprodurre i ritmi della quotidianità in una situazione artificiosamente sottratta alle coordinate di spazio di tempo. Ma funzionalità e comodità che costituiscono le maggiori attrattive del treno, specie quando diventa l'epitome di un universo cosmopolita in movimento, ne sono anche il limite. Il giovane Raskin scrisse una volta al padre che l'andare in treno gli dava la sensazione di essere spedito a un qualche indirizzo e che non vedeva dove stesse la differenza fra un viaggiatore e un postale. Nei Memories di un artista del 1840, Charles Gonneau rimpiange la povera vecchia carrozza crollata a terra, schiacciata, stritolata dalla foga ansimante della vaporiera. Se un tempo il vetturino permetteva di fermarsi ed ammirare con agio paesi e vallate, la locomotiva vi trasporta come un comune bagaglio e vi proietta come un bolide attraverso lo spazio. E mentre il vetturino faceva passare gradualmente il viaggiatore da una realtà ambientale a un'altra, questo proiettile su rotaie in un baleno vi getta da oriente a occidente e il passeggero si sente come un pesce che viene spedito nella maniera più rapida perché possa arrivare fresco. D'altronde, anche nel viaggio ferroviario, i disagi e soprattutto i limiti non sono del tutto assenti, come ricorda nel 1879 Harry Bell, il Lepetitville et le Grand Art en Toscane. Il tronco ferroviario che si stacca a Empoli dalla linea Firenze-Livorno per andare a Siena attraversa uno dei paesaggi più accidentati d'Italia. La locomotiva sale senza eccessivi sforzi da una collina all'altra, rasenta i fianchi boscosi delle montagne, traversa la valle su un gran viadotto dove si infila con un fragore assordante nel buio pesto di una galleria sotterranea. Riferendosi ai treni a lunga percorrenza, Vernon Lee annota sulla soglia del Novecento che c'è qualcosa di egoistico e di superumano nell'attraversare paesi e località diverse senza dedicare loro una riflessione, senza coltivare in noi stessi un pensiero che non sia rivolto al calcolo degli orari, al cibo, al sonno, alla stanchezza. Viaggiando con un atteggiamento simile, continenti e paesi, Italia compresa, si riducono a una sequenza di buffet, di dogane, di stazioni. Grazie alle nuove linee ferroviarie, a nota sarcastico Rudolf Borchard, nel 1907. L'Italia è il paese più visitato ma il meno conosciuto d'Europa. L'aveva già spiegato in un numero della rivista Le Tour du Monde, nel 1882, Eugène Mutz, con toni non sceveri di rimpianto. Scriveva, scludendo alla massa dei turisti la patria per eccellenza dell'arte e della poesia, l'Italia di Isacra, la ferrovia ha fatalmente condannato all'ublio tutte le città poste al di fuori delle vie ferrate. Costretto un tempo a servirsi per settimane del vetturino e del suo sconfortevole equipaggio, il viaggiatore non esitava a deviare dalle grandi vie di comunicazione e senza abbandonare la propria casa su ruote poteva percorrere alcune leghe per visitare un rinomato santuario, un paesaggio romantico o per ammirare un'opera d'arte. Con il dilatarsi della rete ferroviaria e l'uso sempre più ampio e diffuso, il treno si scioglie dalla serie delle associazioni poetiche, più o meno inferiche e tenebrose, per assumere inesorabilmente il ruolo del mezzo regolato da orari inflessibili, come quelli decarcerati, per dirla con l'ironia di Otto Julius Björbaum. Non che si debba parlare con questo della fine della singolare magia del treno, della conclusione della favola moderna che all'arrivo depone il viaggiatore, come dice Marcel Proust, in quella grande dimora dove non abita nessuno e alla quale diamo il nome di stazione ferroviaria. Il fatto è che la curiosità viene ora catturata, appena superato il 1899, da un nuovo mezzo di trasporto, il quale sembra accelerare il progresso mettendo paradossalmente indietro gli orologi e proponendo una dimensione diversa del viaggio e dello stesso viaggio attraverso l'Italia.